Quando ho compito 70 anni, stavo in una trattoria a Monterossi, si chiama Ergurte e la Mettra, stavo bene, allegretto, allora mi è venuto l'istinto, distinto proprio, descrivevi una poesia per me, i miei 70 anni, tra Lacciacchi e Limananni sono arrivato a 70 anni, mi tocco, mi fa male e ho in più la cervicale, l'oschio destro più non vede, mi fa male pure un piede, non ci posso camminare, figurami si va là, mi hanno detto che sto bene e non piame tante pene, perché ancora ho un buon cervello, ma non salta più l'uccello, quando vedo una ragazza che vorrei tagliare la guazza, me ne petto lì per lì, tante volte dice sì, se la porto dentro al letto, dimmi come l'ha contento, non sento stato pirolo, che gli è il giurullo, lo l'inzolo, dunque dai del pensiero, cerca di farlo con serio, le ragazze che tu hai amato, è un ricordo del passato, ora insieme a Caterina, prega Dio sera in mattina, che se prendi la corona, Gesù Cristo ti perdona, dell'offese che gli hai dato, dun averlo mai pregato, ma lo immensa e generoso per l'eterno tuo riposo.